un numero benedetta maledetta ho tradotto dunque cinque zero sei nove il numero è in reversa trenta e tre tre e tre pronto? chi l'è l'icocci? benedetta te e ti? ma non comincia non mi sta invegendo se ti è benedetta mia mi devo sfogar stavotta ti ho visto coberto porca con questi miei oggi faccio mancì scoggi e poi tu mi ti mi lasci finì che sono che tu due volte fa pace con ti e mi dà i eva delle botte che avevi detto sì ma se sì ma se mi toccano dove il mio debole tassi benedetta e non fai mi scipar spusate fa un cervo ci tosto crepa ormai le due anni che ti mare me ti amo ti amo e quegli altri ti remi e ridaghe senti benedetta non fai maragia che vale dio di me sento di a se pensa i massaggi d'oberto porca qua scusa capimo di di ti vuoi s'inegale ti impeccio di ma allora ti finsi dei bei per farti abbrassare e questo l'e niente ti hanno visto in coupé andare in chupo righe come per che e con su gade speciale ti fai con troppei mia cara beneita tu scugli con tutti ti fa quelle si un sciabelli che brutti ma ma cosa ho scritto chi sale tabacchi mia te sei beneita con minuto attacchi non attacchi ma insomma basta lei è seccata sì io non sono beneita mi chiamo renate mi basta un minuto per dirle cornuto cornuto e cornuto cose mi tempo che tipo appa i vanchi di lucido che non le abbenetano un po de cert usa